Una fine annunciata, quella della Mare Nostro, l'azienda ittica di Porto Salvo specializzata nella lavorazione e produzione del tonno in scatola è fallita. Così ha deciso il giudice del Tribunale di Vibo Valencia che ha nominato un custode giudiziario. Per i 42 dipendenti e la fine di un calvario, da un anno gli ormai ex lavoratori non percepivano lo stipendio. Da qui le proteste di piazza e il susseguirsi di tavoli prefettizi che alla luce dei fatti non hanno sortito alcun effetto. E stamattina davanti allo stabilimento della ex Nostromo teatro di numerose battaglie sindacali, si sono presentati per l'ultima volta i 42 nuovi disoccupati del Vibonese che escono da un limbo e che paradossalmente nella loro nuova, seppure drammatica condizione di disoccupati potranno finalmente usufruire degli ammortizzatori sociali e recuperare il credito regresso. Finalmente abbiamo finito il nostro calvario. Che fine farete adesso? Questa è una bella domanda, ma proprio bella perché non lo sappiamo. Ci verrebbe voglia di dire che non è una vittoria, è una sconfitta che sentiamo dentro perché siamo rimasti comunque senza posto di lavoro. Noi abbiamo sperato fino all'ultimo che si aprisse uno spiraglio e la notizia che abbiamo avuto ieri non è stata una gioia nel dire Mare Nostro è fallita perché noi siamo falliti già da tempo a livello lavorativo e ci è rimasta l'amarezza di essere rimasti senza posto di lavoro.